Ma io ho avuto un'attività passata in un sport, clausurato e in un'attività di vacanza qui è in questo parco di Buribari, dove ho paio di azzurro e anche se ci sono un'attività di esplosione dove ho avuto la parte di Gelle, come stanno fuori 4 ore a mattina, ho avuto diverse attività per ammocciare, attività di ammocciare, un'attività di ammocciare, un'attività di ammocciare, dove ho avuto diversi premios, un'attività di pop e un'attività di paile, di ammocciare, di ammocciare, di ammocciare, come ammocciare, di ammocciare e famiglia, naturalmente mamma e tata, per avere un'attività un po' più saldosa, di qual è metà tra gli eventi qui, per riconoscere, in questo momento, celebrare con vacanze grande di Taccabandi, altre ora ancora in scuola, come in questa ruta, molto viaggio per ammocciare, a tutti i famigli, ammocciare e portaginiare, 24 ore a mattina, ho avuto un'attività di spaz, Grazie a tutti. Grazie a tutti.